Jingle Spot Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. 17 partite da terzino, 7 sconfitte per la Lazio, ecco perché Simone Zaghi decide di spostare Lulic a centrocampo. Il Bosniaco, durante la rifinitura, si muove come mezza alla sinistra. A Genova formerà la mediana del 4-3-3 insieme a Biglia in regia e Unazi centrodestra. Il recupero di Conco, salvo ripensamenti dell'ultima ora, permetterà l'avanzamento di Lulic a centrocampo e spedirà nuovamente in panchina Milinkovic. Conco ha recuperato dalla lesione all'adduttore, verrà subito schierato titolare sulla fascia sinistra. Sulla corsia opposta toccherà pasta, Patrick è squalificato. Per il serbo l'ultima dal primo minuto risale al 6 febbraio, sempre a Marassi contro il Genoa. Al centro confermata la coppia Ott-Ghentiletti, completeranno la linea difensiva davanti a Marchetti. Zaghi recupera dall'infermeria soltanto Conco e Candreva, deve rinunciare a Bicevac, Radu, Parolo, Kicina, Matri e Close. Nessuno di questi si è allenato stamattina, nessuno di questi verrà inserito nella lista dei convocati. In attacco torna il tridente Candreva, Giorcevic e Keita. Filippe Anderson, a deluso a Torino, partirà tra le riserve. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a due passi da Fiugi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residenz Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.